Benvenuti a tutti a questo nostro incontro di informazione liturgica. Il tema che affronteremo oggi è la Quaresima. Prenderemo in esame inizialmente cosa ci dice il Magistero Ecclesiale sulla Quaresima, la storia della Quaresima e infine la spiritualità. Leggiamo in Sacro Santo un concilium il duplice carattere della Quaresima il quale soprattutto mediante il ricordo o la preparazione al battesimo e mediante la penitenza invita i fedeli all'ascolto più frequente della parola di Dio e alla preghiera e li dispone così a celebrare il mistero pasquale sia posto che in maggiore evidenza tanto nella liturgia quanto nella catechesi. Sappiamo che il Sacro Santo un concilium offriva appunto le direttive per la riforma della liturgia. In relazione alla Quaresima ci dice che questa ha un duplice carattere. Ecco da una parte vi è il ricordo o la preparazione di catecumeni al battesimo e dall'altra l'indole penitenziale proprio del tempo quaresimale. Ancora leggiamo sul direttorio su Pietà Popolare e Liturgia. La Quaresima è tempo che precede e dispone alla celebrazione della Pasqua, tempo di ascolto della parola di Dio e di conversione, di preparazione e di memoria del battesimo, di riconciliazione con Dio e con i fratelli, di ricorso più frequente alle armi della penitenza cristiana, la preghiera, il digiuno, l'elemosina. Quindi il direttorio mette in luce i tre pilastri della Quaresima che abitano anche tutta l'eucologia, tutte le orazioni della quaresima, cioè la preghiera, il digiuno e l'elemosina. Altri elementi importanti messi in luce sia dal numero di Sacro Santo Un Concilium sia dal direttorio sono l'ascolto della parola di Dio e la conversione. Inoltre quando inizia la Quaresima? Beh, la Quaresima inizia il mercoledì delle ceneri e termina prima della messa in cena domini, quindi termina il giovedì santo però prima della messa in cena domini, perché con la messa in cena domini entriamo nel centro dell'anno liturgico, ossia iniziamo la celebrazione del triduo pasquale. Entriamo ora nella storia della Quaresima, vediamo come questa si è venuta a strutturare. Nel III-IV secolo in Egitto troviamo 40 giorni di digiuno, ma non in preparazione alla Pasqua, ma come commemorazione del digiuno di nostro Signore Gesù Cristo nel deserto. Infatti questo digiuno iniziava subito dopo la celebrazione del Battesimo del Signore. Se ci spostiamo in Occidente, a Roma, a partire dal IV secolo, troviamo tre settimane di preparazione alla Pasqua, tre settimane di digiuno. Allora, in queste tre settimane, nelle domeniche, venivano letti i Vangeli giovannei della Samaritana, del cieco nato e di Lazzaro, Vangeli che ben preparavano i catecumeni a ricevere il Battesimo durante la veglia pasquale. Ancora oggi, nel ciclo A, detto anche battesimale, nella terza, quarta e quinta domenica di Quaresima, leggiamo appunto questi testi giovannei. Ma come si è arrivati da tre settimane a quaranta giorni, appunto per la simbolicità, per il valore simbolico del numero quaranta. Quaranta giorni durò il diluvio, quarant'anni il popolo di Israele è stato nel deserto, quaranta giorni Gesù ha digiunato. Quindi per questo, ecco, gradualmente si passò dalle tre settimane fino ai quaranta giorni. Potremmo dire che le fonti testimoniano come prima la Quaresima iniziava sei settimane prima della Pasqua e poi appunto per avere i quaranta giorni la Quaresima iniziò il Mercoledì delle Ceneri. Abbiamo parlato di come la Quaresima fosse il tempo privilegiato per la preparazione dei catecomeni al battesimo. Ma vi era un'altra categoria di cristiani che faceva penitenza durante il tempo della Quaresima, appunto i penitenti. Coloro che avevano commesso colpe gravi il Mercoledì delle Ceneri entravano in una fase di penitenza molto dura per poi essere riconciliati il Giovedì Santo. Quindi il Mercoledì degli Ceneri a questi penitenti veniva imposto il Cilicio e venivano imposte loro le Ceneri e poi durante il tempo della Quaresima facevano penitenza, non potevano partecipare alla comunione eucaristica, venivano accompagnati dalla preghiera della comunità in questo loro percorso di conversione per poi essere riconciliati il Giovedì Santo durante la prima celebrazione eucaristica. Per questo motivo anche i testi quaresimali hanno una forte connotazione penitenziale proprio perché vengono a coincidere con questo percorso dei penitenti della Chiesa Antica. Poi gradualmente l'imposizione delle Ceneri da una categoria particolare, i peccatori, passò appunto a tutti cristiani proprio all'inizio del tempo di Quaresima. Vediamo ora la spiritualità della Quaresima attraverso le analisi di alcuni testi del Messale Romano. Se dovessimo leggere tutte le orazioni, tutta l'eucologia del Messale Romano del tempo di Quaresima, potremmo notare come i riferimenti alla preghiera, all'elemosina e al digiuno, sono frequentissimi. Quindi dai testi appunto traspaiono, emergono quelli che sono gli elementi fondamentali della Quaresima. Ma andiamo un pochino al Mercoledì delle Ceneri, celebrazione dell'eucaristia con la quale appunto entriamo nel tempo della Quaresima. Leggo la colletta. O Dio nostro Padre, concedi al popolo cristiano di iniziare con questo digiuno un cammino di vera conversione per affrontare vittoriosamente con le armi della penitenza il combattimento contro lo spirito del male. Convediamo come questo gioiello di orazione mette in luce gli elementi propri della spiritualità della Quaresima. Intanto è Dio che ci concede di compiere un cammino di vera conversione. Inoltre viene fatto riferimento al digiuno, di iniziare con questo digiuno un cammino di vera conversione, di affrontare vittoriosamente con le armi della penitenza, il combattimento contro lo spirito del male. Anche qui viene messo in luce il vigore del cristianesimo, richiama le unzioni che venivano fatte appunto ai catecumeni proprio in vista della lotta contro il male e contro la tentazione. Con il cammino di conversione quaresimale è un cammino di lotta contro il male che richiede fatica, che richiede impegno. Il digiuno in tutto questo ci aiuta grandemente, è uno dei grandi mezzi anche nella vita spirituale proprio per allontanarci dal peccato. Il digiuno, oggi si parla di digiuno dalla musica, di digiuno da qui, dalla lettura o dall'uscita, molto spesso digiuniamo da cose superflue. È importante anche il digiuno dal cibo perché il cibo è quell'elemento che ci dona vita e quindi digiunare dal cibo materiale ricorda anche all'uomo la sua dipendenza da Dio, che la vita viene da Dio solo. Poi andiamo avanti, leggiamo un pochino la preghiera di benedizione delle ceneri. O Dio, che hai pietà di chi si pente e doni la tua pace a chi si converte, ascolta con paterna bontà le preghiere del tuo popolo e benedici questi tuoi figli che riceveranno l'austero simbolo delle ceneri, perché attraverso l'itinerario spirituale della Quaresima giungano completamente rinnovati a celebrare la Pasqua del tuo figlio. Ecco, anche qui viene messo bene in luce come l'itinerario quaresimale deve portarci ad arrivare a celebrare bene la Pasqua, a celebrare la Pasqua del tuo figlio completamente rinnovati, grazie al cammino di conversione che facciamo durante la Quaresima. Volevo far notare come vengono benedetti i fedeli, cioè le preghiere del tuo figlio e benedici questi tuoi fedeli che riceveranno l'austero simbolo delle ceneri. Quindi sono le persone che vengono benedette. Una piccola nota, ecco, sulla formula con la quale ci vengono imposte le ceneri. Convertitevi e credete nel Vangelo, non è convertiti e credi nel Vangelo come fa qualche presbitero, è convertitevi perché il cammino quaresimale, un cammino ecclesiale, lo facciamo come popolo di Dio, come comunità di battezzati e di cristiani. La liturgia è sempre un noi, Dio ha chiamato un popolo alla salvezza. Quindi la dimensione ecclesiale della liturgia non deve essere modificata, cambiando la formula in convertiti e credi nel Vangelo. Vediamo ora il lezionario della Quaresima per questo anno B. In tutti i cicli A, B, C, la prima domenica di Quaresima, ecco, la liturgia propone il brano delle tentazioni di nostro Signore Gesù Cristo, quest'anno secondo l'Evangelista Marco. E per la seconda domenica invece la trasfigurazione. Questo quasi a dire, nella prima domenica ci viene presentato l'itinerario della Quaresima, cioè questa lotta contro il male, contro il peccato, contro la tentazione, attraverso l'arma del digiuno e della penitenza. Mentre nella seconda domenica ci viene già mostrato il punto d'arrivo, la trasfigurazione del Signore che è anticipazione della risurrezione. In questo ciclo B poi abbiamo i testi giovannei per la terza, quarta e quinta domenica di Quaresima. Appunto ci viene offerto un itinerario cristocentrico pasquale, cioè la nostra attenzione va tutta sulla Pasqua di Gesù. Infatti i testi sono tutti prefigurazione del mistero pasquale. Ad esempio, nella terza domenica Gesù rispose loro, distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere. Inoltre è importante ricordare la connotazione particolare della quarta domenica di Quaresima, la domenica letare. Perché? Ecco, c'è questa domenica letare, l'antifona d'ingresso dà il nome a questa domenica, no? Rallegrati Gerusalemme. Allora, intanto è uno spezzare questo lungo percorso quaresimale, quindi è quasi anche un dirci siamo quasi giunti alla meta, siamo ormai vicini alla Pasqua del Signore ed inoltre nasce da una tradizione del X secolo, una tradizione romana, quando il Papa andava a Santa Croce in Gerusalemme a benedire una rosa d'oro. Probabilmente questo nasce dalla tradizione di rendere omaggio alla Santa Croce e poi ecco questa rosa d'oro veniva regalata al prefetto di Roma. Quindi la quarta domenica letare nasce da questa tradizione propria della liturgia romana. Infine vorrei ricordare che nel tempo della Quaresima gli strumenti musicali servono solamente per accompagnare il canto, non possono essere suonati da soli, quindi interludi, posludi, brani d'organo all'inizio e alla fine, no? Proprio perché anche il codice musicale ci dice che stiamo in un tempo di penitenza, in un tempo di digiuno, anche la liturgia è molto più asciutta, non abbiamo naturalmente l'alleluia e il gloria viene a mancare e anche i fiori non devono essere presenti in chiesa. Si può adornare l'altare di fiori solamente nelle solennità e appunto nella quarta domenica di Quaresima letare. Lo stesso discorso si fa per gli strumenti musicali, possono suonare da soli nelle solennità e nella quarta domenica appunto di Quaresima, la domenica letare. Anche la liturgia quindi nei suoi gesti, nei suoi segni, anche solo come viene presentato l'altare, il presbiterio, deve far vivere e far sperimentare come ci troviamo in un tempo appunto di digiuno o di conversione e di assenza e di preparazione alla Pasqua. Un caro saluto a tutti e buona Guaresima!